Siamo qui alla Zerla, una realtà che riesce a coniugare perfettamente la capacità di produrre, di produrre di una produzione di qualità, ma con la capacità anche di fare inclusione sociale. Lavorano qui molte persone che hanno delle difficoltà e fanno un percorso che realizza un'economia di tipo circolare, non solo perché contribuiscono al riciclo, al riuso di materiale che arriva dal distretto biomedicale, rimettendolo in circolo, recuperando le plastiche, ma anche perché il percorso che si avvia anche di formazione nel lavoro fa sì che sostanzialmente piano piano poi le ragazze e i ragazzi che qui lavorano siano sempre più autonomi e in qualche modo permettano anche con l'economia ad altri di avviarsi in questi percorsi. Siamo molto contenti anche noi di venirla a sostenere, naturalmente perché in questa terra, Mirandola, che è anche una terra che di ricostruzione ne sa qualcosa, si riparte avendo cura di non lasciare nessuno indietro. Grazie.